Ben trovati da Tg della mobilità, un fine settimana nel centro della città di manifestazioni che comporteranno chiusure, deviazioni al traffico pubblico e privato. Si comincia domattina dalle 9 alle 14 con il corteo degli studenti medi. La manifestazione dal Circo Massimo raggiungerà Largo Bernardino da Feltre. Sono possibili deviazioni per 23 linee di bus. Sempre domattina divieti di sosta in via Molise per un sit-inne presso del Ministero per lo Sviluppo Economico. Sabato dalle 10.30 alle 13.30 corteo da piazza della Repubblica, piazza Vittorio Emanuele promosso dagli studenti iraniani in Italia per sensibilizzare sulla situazione dei diritti umani. Infine, sempre sabato dalle 15 alle 18.30 manifestazione per l'evento culturale Erasmus 2022, il corteo da piazza dell'Esquilino raggiungerà a piazza Madonna di Loreto possibili deviazioni per 13 linee di bus. E tutto per questo appuntamento con il Tg della mobilità.